2 e 3 vai il bus di tecnologie informatiche per sgominare diciamo delle organizzazioni criminali questo è il futuro, il futuro è l'informatica, l'informatica abbatti i tempi, abbatti i costi ma soprattutto il potere ispezionale dell'uomo, quindi la bus più noi informatizziamo il sistema, qualsiasi gli sistemi, più sarà difficile riciclare o commette il reato ma questa obietà della quale stiamo parlando cozza con una parola magica della quale parleremo questa sera se volete che è la privacy, in nome della privacy si fa qualsiasi tipo di abuso vorrei usare un altro termine, ma diciamo qualsiasi tipo di abuso in Europa, in nome della privacy e guardi che man mano che lei sale l'Europa centrale, l'Europa settentrionale è sempre peggio, si troverà di fronte sempre sistemi giudiziati a maglia larga più lei sale nel nord d'Europa, più facile è commette il reato, più facile è riciclare, più facile è cambiare nel paese grazie